Le sento più vicine, le sacre sinfonie del tempo, con un'idea che siamo esseri immortali, caduti nelle tenebre destinati a errare. Nei secoli, dei secoli, fino a completa guarigione, guardando l'orizzonte, un'aria d'infinito mi commuove, anche se a volte le insidie di energie lunari specialmente al buio mi fanno vivere nell'apparente inutilità, nella totale confusione, che siamo angeli caduti in terra dall'eterno senza più memoria, per secoli, per secoli, fino a completa guarigione. Grazie a tutti.